Oggi abbiamo ricordato Giuseppe Lafranca e anche l'occasione per ricordare altre vittime di mafia come un ragazzino di appena nove anni, Claudio, lei è il papà. Io la ringrazio di avere preso l'argomento di Claudio, però io vorrei fare una riflessione se lei me lo permette. Oggi è un anniversario che riguarda un avvocato Lafranca, vittima di che cosa? Vittima di un sistema della sua epoca, vittima quindi innocente di un atto mafioso. Su questo non ci sono dubbi. Quindi oggi è una cosa eccezionale perché oggi si fa memoria. E quindi lasciamo la giornata di oggi solo ed esclusivamente all'avvocato Lafranca perché la riflessione è un'altra. Veda, io dico solo questo, la società siciliana ha avuto bisogno di alcune vittime per poter smuovere la coscienza civile. La morte dei bambini, la morte di l'avvocato Lafranca, la morte di magistrati per poter scuotere la sensibilità, il torpore della società siciliana per scendere in piazza e gridare basta e abbattere quei muri di omertà che hanno sempre coperto le malefatte delle mafie e le hanno fatte crescere. La morte di questi uomini, donne, bambini oggi possiamo dire che ha dato un risultato positivo e nella disgrazia quella di avere scuosso le coscienze dei cittadini non solo italiani ma soprattutto dei cittadini del sud e dei cittadini siciliani. La morte di mio figlio ha mandato in piazza 10.000 studenti e famiglie cose mai viste che cos'è stato il risultato? Che lo scossone morale avuto da queste generazioni ha spinto a che cosa? Lo Stato ad avere una pressione maggiore su questi territori e evidentemente ad avere dei risultati che hanno portato a dei successi. ma c'è voluta la morte la morte di tanti La Franca la morte di tanti Claudio Domino e oggi cosa facciamo? Abbassiamo la guardia? Ma noi oggi diciamo noi vittime, parenti vittime della mafia noi piangiamo i nostri morti ma li ricorderanno le generazioni future? Forse sì, forse no. Coloro che oggi sono i deputati a fare rimanere nei ricordi dei giovani il sacrificio di tanti non voluto evidentemente non voluto perché nessuno voleva morire da Falcone a mio figlio e a papà di La Franca però questo sacrificio per non vanificarlo occorre non abbassare la guardia alzarla perché bisogna ritornare a risvegliare a rinverdire le coscienze dei cittadini Lei è la mamma di Claudio come lo ricorda oggi? Claudio era un bambino vivace un bel bambino tra l'altro oggi testimonianza la facciamo noi genitori memoria la facciamo noi sono passati 32 anni Claudio non ha avuto ancora un processo Claudio non ha una giustizia come lo posso ricordare oggi? oggi ricordiamo Giuseppe La Franca Secondo lei c'è tanto da fare ancora suo marito ha parlato di una bella scossa delle coscienze ma c'è da fare? Certo noi lo facciamo andiamo nelle scuole però a farlo con i ragazzi perché è lì che dobbiamo svegliare la coscienza i ragazzi ci tentiamo perlomeno stiamo girando per tutta Italia portando Mi scusi cosa raccontate ai ragazzi? La verità solo ed esclusivamente la verità di stare attenti di non cadere nella rete dei mafiosi con facili guadagni tutto va guadagnato nella vita e quindi mettiamo i ragazzi davanti al patto compiuto diciamo che non è vero che questa gente ha un codice d'onore non l'ha mai avuto tant'è vero che uccide i bambini ce ne sono 109 uccisi dalla mafia mi sembra che sia una strage anche quella Ma c'è una speranza che tutto possa cambiare? La speranza è l'ultima a morire io ci spero questo è il messaggio che passo ai ragazzi debbono avere speranza ci debbono credere debbono credere nello Stato Vincenzo Agostino presente all'anniversario di Giuseppe Lafranca qual è la riflessione? La riflessione è quella che come l'Avvocato Lafranca 22 anni fa è stato ucciso mane mafiose mane che hanno preso che è stato l'hanno condannato e quant'altro però ci siamo vittime di mafia vittime del dovere che ancora non sappiamo il perché sono stati uccisi dopo 30-40 anni e quindi almeno per l'Avvocato Lafranca c'è stato un po' di giustizia ma non è questo il punto di vista il punto è dico io oggi al governo chi comanda deve applicare leggi severe leggi che non possono modificare da un giorno all'altro se una condanna devono rimanere condannate per tutta la vita come noi familiari siamo condannate all'aggastro la vita Tu gridi ancora giustizia per tuo figlio? Certo che grido ancora giustizia e verità per mio figlio perché dopo 30 anni non so chi ha ucciso materialmente mio figlio non so chi è stato e quindi ancora noi non abbiamo questa luce nel tunnel completamente buio da nostra parte e come dicevo l'Avvocato Lafranca ha avuto giustizia perché hanno preso chi l'ha ucciso ma tante altre come dicevo poco fa non l'hanno avuto questa giustizia io dico al governo che il governo si deve organizzare bene per poter fare luce su tutti i maestrati che ci sono sia all'interno del governo e sia fuori e sia fuori del governo principalmente debbono fare fuori tutti quei generali quei militari che hanno tradito la patria e non sono degni di indossare una divisa e il governo lo sa chi sono questi mentre ai giovani qual è il tuo messaggio? il giovane io dico questo il giovane il governo siamo noi il governo sono i giovani che devono crescere devono studiare e devono andare avanti perché se un giovane non studia e vuole fare il bullismo nelle scuole nelle piazze ovunque sia quello è un male per tutta la nostra società quindi a questi giovani io dico ragazzi studiate soltanto questo che posso dire perché l'intelligenza vi apre il cervello e apre l'orizzonte per poter poi essere un domani essere poi a capo del governo all'anniversario di Giuseppe Lafranca è presente anche Rosanna Belilli che è la coordinatrice del gruppo di Palermo di Agenda Rossa bene Rosanna stasera una riflessione è necessaria voi nel 2009 fa capo a Salvatore Borsellino avete creato l'Agenda Rossa che cos'è perché nasce che cosa si propone il Movimento delle Agende Rosse si propone come obiettivo primario quello di cercare la verità e la giustizia sulle stragi in particolare la strage di Via D'Amelio e dietro il Movimento delle Agende all'interno del Movimento delle Agende Rosse una serie di persone si occupano proprio di studiare gli atti processuali e di seguire i vari processi che sono inerenti alla strage sia il processo trattativo a Stato-Mafia sia anche il Borsellino Quater e ora l'altro processo che vede imputati i poliziotti che riguarda in particolare è il depistaggio che vede la figura di Scarantino il nostro gruppo in particolare si occupa di parlare di legalità nelle scuole è un progetto che riguarda sia i bambini sia le vittime innocenti di mafia che non sono conosciute come anche l'Avvocatola Franca per esempio o il fratello di Massimo Sole Gianmatteo Sole o i bambini perché i ragazzi sentendo che sono davvero 125 bambini uccisi dalla mafia capiscono che non è la quando si parla con loro e si dice che ci sono i magistrati i poliziotti i ragazzi pensano lo hanno voluto sapevano di correre un rischio un bambino non può sapere di correre quel rischio il bambino deve vivere la propria infanzia felice e si trova in situazioni più grandi di lui il 18 ricorre una data importante lo vogliamo ricordare allora il 18 al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo noi festeggeremo il 78 compleanno di Paolo Borsellino in effetti il compleanno di Paolo Borsellino è il 19 il giorno successivo tant'è che la manifestazione inizierà intorno alle 21 per proseguire fino oltre la mezzanotte noi ogni anno vogliamo ricordare Paolo non soltanto per le battaglie quindi con tutta la rabbia ma anche con la gioia perché Salvatore Borsellino vuole ricordare suo fratello come era in vita perché lui era molto allegro è una persona piena di vita e di gioia soltanto che spesso lo vediamo nei famosi giorni che intercorrono dal 23 maggio al 19 luglio dove era effettivamente preoccupato lui si è portato dietro sicuramente delle delle verità che purtroppo noi ancora non riusciamo a scoprire a scoprire